oggi giornata di festa un bel mare un solo ecocento quindi non c'è niente di meglio che trascorrere una bella giornata in spiaggia avete organizzato qualcosa per i vostri clienti piaggia pronta stabilimento operativo ormai al 100 per cento abbiamo la piscina aperta tante novità quest'anno da partire dai gazebi alternativa gli ombrelloni inizia esserci un bel movimento finalmente con il tempo che ci aiuta si prospetta una bella stagione in teoria sì quella nostra il nostro auspicio questo come trascorrerai oggi questa giornata di festa dai sicuramente all'insegna del divertimento degli amici abbiamo già giocato a beach tennis quindi ha fatto anche il bagno ben già fatto il bagno è l'acqua l'acqua è fredda però tempra si soffre quei due minuti c'è iniziali poi entri in temperatura e ti tonica parecchio quindi lo consiglio io perlomeno non faccio il ponte quindi sicuramente oggi la prendo come relax starò qui niente nessun programma pranzerò al mare con la mia amica e poi vedremo magari un aperitivo sul tardi ecco siete di fano sì di di fano esatto di bellocchi lì vicino passeremo al mare tutta la giornata pranzeremo qua e poi faremo il bagno al mare poi in piscina e tutto il giorno voi siete di fano sì siamo di fano e tutti con tutta la famiglia quindi anche però sotto il merone ci sono anche diversi amici sì sì tutti i fanesi tutti i fanesi doc a lui viene di ancora si sono sì ormai fanese oggi in trasferimento qui a fa sì no io sono ormai diciamo abito a farlo da un po di tempo e niente da palombina a farlo alla sassonia nel mare di fano rispetto a quello di ancona e diciamo un po è uguale lei invece dalla puglia qua oggi spiaggia a fano le piace fanno la spiaggia mi piace molto perché c'è una grande ospitalità e per cui apprezzo molto l'organizzazione i servizi abbiamo fatto una partita beach tennis qui è molto molto ospitale il bagno l'ha fatto ancora no non ho ancora fatto il bagno della stagione però vado a farlo buon mare a tutti e ciao una bellissima giornata il mare è bello il sole è caldo si sta benissimo passerà qua tutta la giornata no no vado a pranzo a casa quindi poi ritorno il pomeriggio e molto probabilmente se avete fatto già il primo bagno te no come l'acqua è bello molto bello è piaciuto si sta bene si si sta molto bene oggi siete qua in compagnia con tutti i vostri genitori mangerete in spiaggia una pizza qua mani maurizio fino a stasera state sia il pomeriggio 7 poi stasera fate anche l'aperitivo sì qua al mare ma invece la scuola è finita io domani faccio la festa manca due giorni tutti contenti a me manca un giorno e domani era la festa della repubblica quindi si stava a casa e abbiamo sfruttato l'occasione per venire al mare allora dai andate a tuffarvi a tuffarvi